Si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere noi, come fare non so. Si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere noi, come fare non so. Ringrazio ovviamente l'associazione Fanto Tessore per questo riconoscimento, che mi fa veramente piacere, soprattutto per avermi permesso di contribuire alla serata attraverso le mie opere. Ringrazio soprattutto le attività di Sanremo che ci hanno accolto a braccia aperte. Grazie. 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 Grazie.